Allora entriamo nell'argomento, parliamo di ICR Party, il partito dei conservatori e riformisti europei di cui è presidente Giorgia Meloni, di cui io sono segretario generale, cosa diversa dal gruppo parlamentare dei conservatori e riformisti europei anche se ovviamente siamo delle organizzazioni gemellate e affini. Allora io vi farei vedere rapidamente questo breve video che abbiamo trasmesso ieri a Strasburgo e che serve per darvi un'idea del lavoro che stiamo facendo in questi ultimi due anni. Grazie a tutti. 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 provenienti da tutta Europa, nel caso di Scilla siamo arrivati a oltre 600 partecipanti. Alla giornata principale, che è normalmente il sabato, in cui inseriamo tutti i dibattiti, poi ancoriamo delle attività conoscitive e culturali che si svolgono il venerdì sera e la domenica mattina. Il risultato, quello che dico sempre io, è che stiamo facendo Europa. A me piacerebbe che ognuno di voi potesse venire nei momenti non solo delle sale, che sono sempre di altissimo livello, ma nei momenti di intervallo, che sono fantastici perché si cammina e si sente ad ogni tavolo parlare due o tre lingue differenti. Devo ringraziare per aver aderito già più di una volta il Ministro Ciriani, al quale do fra un attimo la parola. e diciamo che con noi è già venuto Luca, tu sei venuto in Israele? Sì. Yes. L'onorevole Rotelli è già venuto anche con noi in... Dove sei venuto tu? Washington. Rotelli ormai è un abitué. E adesso stiamo cercando di convincere l'onorevole Osnato, ma l'abbiamo convinto senza troppa difficoltà, a diventare uno dei nostri ambasciatori di Isiar nel mondo. Ministro, ti lascerei... Allora, grazie e grazie a tutti voi che siete qui presenti a questa conferenza stampa. Io devo naturalmente ringraziare Antonio Giordano e tutti i colleghi della CR. Io sono qui naturalmente in veste di rappresentante del Governo italiano, ma ci tengo a dirlo come rappresentante anche del Partito Conservatore europeo, a cui tutti noi apparteniamo, visto che la nostra Presidente Giorgia Meloni ricopre il ruolo di Presidente. Quando parliamo di conservatori europei, a me viene in mente che circa un anno e mezzo fa a Milano tenemmo un congresso molto importante proprio per approdare al progetto dei conservatori italiani. La storia dei Fratelli d'Italia è nata non per essere una storia di un piccolo partito che guarda il passato in maniera retrospettiva, ma di un grande partito di governo, non solo italiano ma nazionale. Sembrava un'ipotesi assolutamente impossibile, velleitaria, fantascientifica, è diventata realtà. E quindi in questa prospettiva anche l'idea che si possa esportare anche a Strasburgo, a Bruxelles, il cambiamento che Giorgia Meloni, il governo, ha portato in Italia è il nostro obiettivo. La Casa dei Conservatori è la nostra casa, dei conservatori e dei riformisti. L'attivismo del gruppo testimoni è il fatto che la crescita politica segue la crescita culturale e di formazione della classe dirigente, o forse l'anticipa. Comunque non possono le due cose viaggiare separatamente. Noi siamo in grado di dimostrare, non soltanto qui in Italia ma anche a livello europeo, di avere una classe dirigente all'altezza della sfida, che si forma, si informa e si confronta con gli altri partner. Il Partito Conservatore ha realizzato, io ho avuto la possibilità di partecipare in particolare, la bellissima esperienza a Gerusalemme. C'è un gruppo di persone, non solo europee, che collabora tenendo insieme l'idea di nazione e l'idea di Europa, l'idea di Occidente. Queste tre grandi scenarii, grandi sfide culturali. La sfida italiana e nazionale, la sfida europea e la sfida occidentale. Le tre dimensioni si tengono insieme, non confliggono, come qualcuno vorrebbe dire, ma l'idea nazionale, l'idea di una patria europea, l'idea di una cultura occidentale sono il sottofondo di queste riunioni. Quindi un grande attivismo politico-culturale per creare, formare, confermare una classe dirigente all'altezza di vincere anche le sfide europee e soprattutto la capacità di dimostrare di avere idee, progetti e esperienza in ogni settore. Quello agricoltura, ma di tanti altri di cui abbiamo parlato. Quindi complimenti all'amico Antonio Giordano che è l'organizzatore e a tutti coloro che parteciperanno in Irlanda a questo importante confronto e convegno. Grazie. Allora vorrei sottolineare che i moderatori delle quattro iniziative saranno quattro importanti giornalisti italiani e irlandesi e in realtà la giornalista Rai che è di sede a Bruxelles come testimonianza della nostra vicinanza al mondo dell'informazione che ci è caro e che può veramente aiutare moltissimo in questo. Chiederei al Presidente De Carlo di illustrarvi i titoli delle iniziative perché parliamo di agricoltura e quindi nessuno meglio di lui. Innanzitutto grazie Antonio e grazie dell'opportunità di parlare di agricoltura in un momento nel quale l'agricoltura è tornata finalmente centrale anche nel dibattito politico italiano. Insomma è un settore primario però forse per qualche anno è rimasta come fosse qualcosa che non esisteva più magari sostituita da altre questioni che anzi vedevano l'agricoltura magari come una grande inquinatrice non in realtà come una produttrice di beni primari che ci consentono di vivere appunto e di cibarci. Anche solo dal titolo si capisce quello che è lo spirito non solo del governo italiano ma anche dei conservatori europei cioè tradizione e innovazione. Noi siamo convinti, lo sappiamo, che la forza delle nazioni come l'Italia, come l'Irlanda ma anche come l'Europa in generale è la sua straordinaria capacità di fare prodotti di qualità e che raccontano i territori e questa è la parte della tradizione. Però sappiamo anche che questa tradizione deve essere sempre implementata da nuova innovazione tant'è che quella che i nostri nonni probabilmente chiamavano innovazione è per noi la tradizione e viceversa, la tradizione è un'innovazione che ce l'ha fatta e questo è il nostro compito di oggi attraverso ricerca, innovazione e tecnologie riuscire a perpetrare quella straordinaria capacità che abbiamo sempre avuto di raccontare i nostri territori attraverso i frutti della terra e questa è una visione alternativa alla visione europea di oggi che invece vede appunto l'agricoltura come la grande inquinatrice, la responsabile delle emissioni in atmosfera facendo una straordinaria confusione tra CO2 tra l'altro che l'agricoltura trattiene e gas metano quando si parla ad esempio di allevamenti quindi con un'ignoranza nella comunicazione che a volte è imbarazzante per chi magari si addentra in tematiche come quelle dell'agricoltura dobbiamo cominciare a raccontare l'agricoltura per quello che è e c'è una straordinaria, primordiale ma assolutamente attualissima maniera e metodo di conservare il territorio perpetrare tradizioni e sfamare miliardi di persone nel mondo perché la nostra sfida sarà quella in un prossimo futuro di dare da mangiare a 10 miliardi di persone e per fare ciò dobbiamo farlo producendo di più e meglio qualcuno aveva venduto come la soluzione la decrescita felice non è la decrescita felice la soluzione la soluzione è aumentare le produzioni nel rispetto della natura e nel rispetto della tradizione ed è per questo che noi siamo stati avanguardisti in Italia rispetto alla sperimentazione a terra delle tecniche di evoluzione assistita norma e questione che stanno oggi prendendo piede in tutta Europa e che l'Europa sta cominciando a disciplinare guarda a caso nel solco di quello che ha fatto l'Italia in maniera assolutamente appunto innovatrice ma assieme a questo ci saranno altri panel proprio con uno sguardo su quella che devono essere le politiche europee del futuro quindi diverse in discontinuità rispetto a quelle di oggi come riuscire a coniugare appunto agricoltura e rispetto ambientale per una green economy che sia veramente green e non un green washing non qualcosa che fa finta di essere green e sostenibile e in realtà non lo è e anche e soprattutto poi una profonda discussione su quali sono gli allevamenti oggi e perché l'allevamento oggi è ancora strategico non solo per l'alimentazione umana ma anche per il mantenimento del territorio noi tutti siamo contro gli allevamenti intensivi però bisogna anche che ci vendiamo conto di cosa voglia dire intensivo sono intensivi gli allevamenti in Italia 200, 300, 400 capi o sono intensivi gli allevamenti in altre parti del mondo dove sono centinaia di migliaia di capi stipati in un territorio assolutamente esigo beh io credo che facciano parte ancora non solo della nostra cultura ma anche della possibilità dell'uomo libero di scegliere di cosa cibarsi nel rispetto assoluto alla natura ed è su tanti argomenti come questi che ci confronteremo in una terra l'Irlanda tristemente nota per una carestia che la colpì e che fu motivo di esodo alla fine dell'Ottocento ma anche una straordinaria terra che con noi ha tantissime similitudini anche in agricoltura pensiamo ai pascoli che rappresentano un sistema assolutamente sostenibile di gestione del territorio a volte ce lo dimentichiamo anche noi e anche qui un altro provvedimento che l'Europa sta trattando Antonio che è quello del credit di carbonio agroforestale che anche qui in Italia noi siamo stati assolutamente anticipatori e che consentirà agli agricoltori di vedersi riconosciuto un valore anche per il solo fatto di esistere e di aver fino adesso mantenuto il nostro ambiente così come lo abbiamo conosciuto ecco credo che dobbiamo cominciare non solo a mettere assieme le esperienze ma anche a cominciare a raccontare un'agricoltura con gli occhi non deformati dall'ideologia ma un'agricoltura reale e di ciò che vale l'agricoltura oggi nel mondo grazie Presidente Osnato l'agricoltura ovviamente non può prescindere da temi di natura finanziaria su cosa ci confronteremo secondo te con i nostri colleghi irlandesi e con le persone che saranno lì presenti esperti e giornalisti grazie mille anch'io parto con i ringraziamenti a te Antonio per questa occasione ma per tutte quelle che hai presentato anche nel video che ho magistralmente fatto partire e soprattutto per quello che però sta dietro a tutto questo a tutto questo lavoro insomma perché evidentemente non sono cioè questa è la punta dell'Aise del lavoro che tu svolgi quotidianamente per tenere uniti i conservatori europei per dare visibilità ai conservatori europei per far presente che in Europa c'è un'alternativa che è proprio rappresentata dai conservatori europei e credo che hai anche trovato il modo di evidenziare e lo si capisce anche dalle parole del Presidente De Carlo come l'agricoltura che è un valore in assoluto e mescola come diceva giustamente Luca innovazione e tradizione è anche un elemento ormai lo dico da responsabile economico di Fratelli Italia prima ancora da Presidente della Commissione Finanze è un elemento di sviluppo anche ormai imprenditoriale economico che non è più soltanto uno sviluppo di nicchia come magari può essere stato in alcune esperienze importanti in Italia ma diventa anche poi un asset importante dell'economia italiana e ha ragione ancora una volta incredibilmente Luca De Carlo a dire che ci sono tante similitudini tra Italia e Irlanda lo diceva per le difficoltà del passato per le carestie per l'emigrazione che è stato un tema importante che ha ricordato Irlanda e Italia e che è derivato proprio anche dalla difficoltà poi di mettere a frutto le capacità in agricoltura di quegli anni e che oggi invece sono degli asset importanti invece come dicevo prima quindi io spero che gli importanti panel che si è riuscito a creare al di là della presenza mia di De Carlo e di Rotelli insomma e invece sono ampiamente qualificati e possono insomma anche su questo lanciare messaggi in Europa che cambino un po' anche alcuni dogmi che in Europa abbiamo visto su temi agricoli che riguardano l'agricoltura e l'economia e che hanno magari legittimamente favorito in passato altri tipi di agricoltura penso la Francia in parte la Germania e magari hanno trascurato quella italiana e anche quella irlandesa grazie Presidente Rotelli fare finanza con l'agricoltura danneggia l'ambiente che cosa diranno i nostri amici irlandesi allora intanto dobbiamo fare un plauso tutti li abbiamo fatto un po' dei nostri interventi Antonio Giordano non soltanto per l'organizzazione di questi appuntamenti in giro per l'Europa ma anche per come possiamo dirlo ha rimesso in sesto l'intera macchina delle CR a livello europeo il collega Giordano ci ha messo testa a cuore tempo tutto quello che serviva per dare solidità e dignità insomma una macchina che era un po' diciamo arrugginita a questo poi sono iniziati ad arrivare anche una serie di contenuti che non fanno mai male contenuti che non sono scontati come questi perché potrebbe sembrare insomma che in una dimensione europea alcune tematiche abbiano la stessa declinazione orientativamente quasi dappertutto quantomeno in nazioni che sembrano almeno a prima vista essere molto simili se non uguali in alcuni casi le similitudini di cui parlava sia Luca che Marco rispetto a l'Irlanda sono abbastanza evidenti eppure abbiamo delle declinazioni che alcune volte nella soluzione dei problemi non sono proprio le stesse intanto perché ci sono alcune risorse e su questa arriva la domanda per quanto riguarda la compatibilità d'ambiente ed agricoltura che non sono infinite Luca De Carlo prima lanciava la sfida del sfamare dare da mangiare a miliardi di persone la terra sicuramente non è infinita non basta soltanto avere terra coltivabile e serve per esempio anche poterla irrigare irrigare bene da questo punto di vista la risorsa idrica non è assolutamente infinita lo sappiamo nella nostra nazione ma purtroppo questo problema c'è in tante altre nazioni d'Europa magari con declinazioni differenti ma è un tema da affrontare in questi appuntamenti alcuni dei quali ho avuto come diceva prima Antonio la possibilità già di essere stato presente di aver partecipato si trovano proprio delle differenze sostanziali di approccio infrastrutturali sono tante diciamo le vicende che vengono affrontate in maniera diversa e quindi la grande occasione di questi appuntamenti ECR è scambiarsi in alcune volte anche delle buone pratiche non sta a me diciamo ricordare come per esempio l'appuntamento in Israele sia stato decisamente importante da questo punto di vista perché per alcune tecniche diciamo di utilizzo della risorsa idrica quella è una nazione che è diciamo a riferimento a livello mondiale per la capacità di recuperare ogni singola goccia che serve poi alle produzioni questo problema l'Italia fino adesso e ad oggi non ce l'ha mai avuto abbiamo avuto delle stagioni particolarmente siccitose quindi ci dobbiamo organizzare per fare bene questo e quindi utilizzare al meglio le risorse della natura e non disperdere già è uno degli elementi sui quali discuteremo in questo appuntamento delle 11.05 belli questi orari proprio europei diciamo delle 11.05 che ci sarà a Kilkenny nel quale parleremo naturalmente di green economy e di quelle che sono tutte le declinazioni solitamente sono delle sfide delle sfide anche particolarmente importanti con una sticella sempre alta quella insomma che pone sia l'Europa ma che si pone anche il partito dei conservatori europei che noi intendiamo diciamo raccogliere e rilanciare per questo ringrazio l'organizzazione e anche tutti i colleghi con i quali ci troveremo in Irlanda fra qualche giorno vi aggiungo solo un'ultima cosa queste iniziative sono parzialmente finanziate dalla comunità europea quindi dall'Unione europea e quindi diciamo chiunque che abbia un animo conservatore può iscriversi e partecipare a questa esperienza meravigliosa è una cosa appunto dove essendo cofinanziati i costi di partecipazione sono molto bassi e tutti tutti i nostri diciamo amici che vogliono venire a vedere come l'Europa davvero sul territorio possono farlo attraverso il sito del partito dei conservatori europei se ci sono domande se non ci sono domande perfetto vuol dire che siamo stati chiarissimi grazie a tutti grazie per essere stati qui grazie a tutti